C'è un'artista visivo We are both industries Io sono Jacopo Biffi e sono musicista e sound designer Hi, I'm Stella Hötler I'm a performer I'm Valentin Oppermann and I'm a performer as well I'm Martin Obrist, I'm a software developer Hello, I'm Matteo Taramelli e sono artista visivo La nostra associazione è nata circa un anno fa due anni fa a base a Berna in Svizzera lavoriamo in modo transdisciplinare unendo video arte immagini in movimento arte performativa multimediale e siamo qui per sperimentare con appunto una performance multimediale sul web all'interno del programma Residenze Digitali Useremo delle tecniche che abbiamo sviluppato durante il nostro lavoro sui video in precedenti residenze quindi lavorando sul green screen e quant'altro ma in più stiamo aggiungendo delle cose nuove con l'aiuto di Martin abbiamo aggiunto la possibilità di stiamo esplorando questa cosa dell'interazione con il pubblico attraverso questo media che insomma ci interessa molto scoprire anche perché un sacco di gente lo usa e quindi è una cosa penso necessaria cercare di portare il nostro lavoro lì ed è anche il nostro lavoro di scoprire le forme di interazione che sono usuali in questi posti che non sono usate e che sono specifiche in ogni platforme quindi una grande parte del lavoro era proprio come interagire sulle interagire in questi platformi penso che questo metodo refleccato il nostro spirito perché siamo tutti diverse attraverso e sempre entriamo in un'interazione in un'interazione e è molto interessante perché ogni persona abbia un'esperienza ma anche che attraverso un'esperienza è come preparare un'interazione è un'interazione diversa un'interazione diversa ma anche stiamo preparando un film o qualcosa è molto diverso e molto bello quindi sembra di fare per una performance allora la performance sicuramente funzionerà al meglio nel momento in cui molte persone partecipano sono e un'interazione e e l'interazione e non attraverso l'interazione siamo il che è il e vediamo come stiamo qui. Ciao! Non c'è nessuno!